Quindi seguiamo Odino. Una cosa alla volta. Può bastare, Carl. Con tutto il rispetto. Devi sapere che sono qui per studiare, non per servire. Non mi serve proprio un altro servo. Mi serve qualcuno con voglia, curiosità, che sappia prendere l'iniziativa. Ha un bel aspetto. È brasato? Ma perché io? Perché sono metà gigante. Capirai. Come Thor. Erland cerca di restare sveglio. Intesi? Ok, ma... Senti, non pensarci troppo. Ho un progetto che credo ti interesserà. Un'ottima occasione di imparare. Per entrambi. Ma la mia famiglia, i miei amici. Devo sapere che nessuno si farà male. E perché dovrai fare del male? Se ti ricordi, è dall'inizio che voglio solamente una tregua. Senti, ora sei qui. Non preoccuparti. Andrà tutto bene. Siamo quasi alla tua stanza. La mia stanza? Già, proprio qui. Entra, esci quando vuoi. Prendi ciò che ti serve e curiosa in giro. Non sei un prigioniero. E cosa più importante. Io non sono tuo padre. Padre di tutti. Serve il vostro intervento. Sì. Non hai dato il benvenuto al nuovo ospite. Saluta Loki. È lui? Qui. A casa nostra. Che piacere. Minchia. Allora vado. Tutto bene nel nuovo Midgard? I profughi stanno bene. Il problema è con i nani. È tornato a voi sapete chi. C'è sempre qualcosa. Appoggia quei libri. Dobbiamo vedere un altro posto. Ah. Sì. Bene, eccomi. Lui dov'è? Lui? Oh, è proprio lì. Padre di tutti, signore. Capo, quanto tempo. Qual è il problema? Nessun problema, se l'obiettivo sono trappole mortali instabili. Ho approvato questi progetti personalmente e parecchio tempo fa, aggiungerei. Ti sei svegliato con la voglia di rompermi le palle? Ah. Chi è il ragazzo? Un ladruncola in erba? Sai cosa, Durlin? Pucci di idromele da quattro soldi. Senz'altro la tua caratteristica migliore. Ora ascoltatemi. È la vostra intera economia che vi parla. Voglio dirvi che ho fiducia in voi. Ho fiducia che possiate consegnarmi queste macchine come promesso, rispettando tempi e costi e, ovviamente, insicurezza. I nani non mi hanno mai deluso e non cominceranno oggi, giusto? Bene. Ok, ragazzo, ora puoi tirare il piano. Quando sei pronto per lavorare e avere quelle risposte, vieni nel mio studio in fondo al corridoio. Oh, e cambiati pure i vestiti. Guarda nell'armadio. Ok. Allora, potenziamo. No, ti dio. Puttano, ho sbagliato tasto. Allora. Potetti speciali. Ok. Va bene. Non posso potenziarmi molto alto. Andiamo. Allora. Loki, giusto? Apprezzo l'ironia di tutto questo, davvero. Questa stanza era sua, lo sai? Di chi? Di mio fratello. Tuo fratello? Modi. Ah. Tuo fratello. Davvero? Io non ne avevo idea. Ah. E ora è tua. Goditela. Trude Torsdottir. Rilassati. Non è un'eredità pesante da raccogliere. Stiamo meglio senza di lui, Loki. Credimi. Vieni con me. Non dimenticare la spada. Qualcuno poi lo riparerà. Poi. Poi. Dunque. Che tipo di spada è? È nuova. È unica. me la diede mio padre per addestrarmi come Valkyria. Ti addestri come Valkyria. Hai tempo per parlarne? Stavo giusto andando alla grande sala. Ma se devi andare a lavorare, lo studio del nonno è in fondo a quelle scale. Ok. Ma se io volessi parlare con lei? se vado di qua? Ok. Ok, porto il dialogo. Mi alleno per diventare più forte. Poi attendo che il nonno se ne accorga e infine spero che lui e papà convincano la mamma. Sai, mio padre e io abbiamo incontrato un sacco di Valkyrie. Aspetta, cosa? Dove? Devi raccontarmi tutto. Promesso. Madre, lo conosci Loki? Oh. Ora sei coinvolta anche tu? Coinvolta in cosa? Sono amichevoli. Non si chiama Diplomazia? Tu lo sai chi è lui, vero? Ciò che ha fatto suo padre? Perché lo vuole qui? Mamma, dai, mi metti in braccio. Ne parleremo più tardi. Ti suggerisco di tornare a fare il mio padre. Scusala. Tutte così le mamme, eh? Vuoi dare un'altra occhiata in giro o preferisci rimetterti al lavoro? C'è qualcosa di straordinario a fare il mio padre? Ehm. Ascolta, qualsiasi cosa il nonno ti faccia fare e ricorda. È la tua occasione per farti valere. Per alcuni di noi è tutto. Oh, sì, farò del mio meglio. Bene. dopo questo meraviglioso giro è il momento di andare. È stato un piacere. Ci vediamo dopo. Sì, ho capito. Sì. Beh, non lo vedi che sto alluendo e dicendo sì, ho capito. Io, io, ah, sì, sì, va bene. Mhm. Ma, lo vedi? Sei tu che non mi fai parlare. No, Hugen, io non mi devo pulire le orecchie. Sei tu che dovresti smetterla di gracchiare e, e, e accettare la risposta che tu sai ti sto per dare. io stavo solo dando un'occhiata. A quel vecchiume? Quello ce l'ho da... Chi si ricorda? Hai un nome? Ingrid. Davvero? Sì, perché no? Prendila, se ti piace così tanto. Sul serio? Un piccolo extra per il lavoro. Grazie, grazie davvero. E dicono che io sarei cattivo. Avanti, andiamo. Andiamo. Ok. Mi hanno frainteso tutti. Pensi che mi interessi solo la guerra? O il potere? La ricchezza? No, quando mai? Sai cosa mi interessa? Le risposte. come a te. Sai, per i mortali è facile. Di fronte alle grandi domande della vita si rivolgono a noi per avere le risposte. Conforto divino. Sappiamo entrambi che è una farsa. E se le avessimo noi, le domande? Perché siamo qui? Per dare risposte ai mortali mentre nemmeno noi le abbiamo? No. Siamo molto di più. E ho qualcosa che lo dimostra. Che cos'è? È ciò a cui aspiro. Tu lo senti, vero? Io sento... conoscenza. Verità. Tutta la verità. Tutte le risposte. Possiamo scoprire perché esistiamo, cambiare il nostro destino, fermare il Ragnarok per sempre e forse salvare coloro che amiamo. Come? Ero un giovane Dio quando l'ho trovato. Ho passato la vita a studiarlo, a esaminarlo, finendo spesso in un piccolo cieco. Ho cercato e finalmente ho trovato questo. Hai visto? Possiede la stessa energia mistica. Ha aperto una crepa. Non possiamo guardare dentro. Non è consigliabile. A che serve questa maschera? Capisci che c'è scritto sopra? Non sono parole dei nove regni. Opsidian ispita. Dalla terra ardente e scintille di Ossidiana in un campo di battaglie mai combattute. Ne sei sicuro? se questo è un indizio so cosa significa. E che significa? Continua a collaborare con me e lo scoprirai. Non devi uccidere nessuno. Non devi tradire tuo padre. O ciò in cui credi. Andiamo! Hai sentito ciò che ho sentito io? Le risposte sono lì dentro. Tiriamole fuori! Insomma, hai tradotto questa lingua come niente fosse. Se io ti aiuto, che devo fare? Thor! Vieni qua giù! Padre di tutti. La vuoi smettere! Devi seguire questo frammento. Prendilo. E insieme a questo bisteccone vedi dove ti porta. Non ti prometto niente. Sciocchezze. Buona caccia. E tu? Sii gentile con noi, hai capito? Muspelheim. Il resto della maschera è qui. Ma il padre di tutti ci ha molato qui. Tu che ne pensi? Su, prendi quello e mettiti al lavoro. Quindi, Dove andiamo? E che cazzo ne so? Il padre di tutti crede che tu sappia quello che fai. Allora vanno. Cioè? Ok. Di qua? Strano. Beh, intanto oltrepassiamo questa roccia. con quelle braccia. Grazie, eh. Ok. Vediamo cosa sanno fare l'occhio e quello stuzzicadere. Ho delle domande, ecco. qui. Oh. Oh. Io lo devo solo qui usare. Ok. Ok. E qui E qua Ottimo Qui Proprio qui Ok E' più strana questa parte Cioè Sto giocando un godoguro Invece che fare il cura dell'Olimpo Cioè Invece che fare il cura Le divinità Io sono Una divinità Lo so il pestano Non nego che faccia un certo effetto Ok Ok Dai No Thor è fortissimo Ottimo Dammi un attimo che Ci sono Vasi da rompere qui Ok Dobbiamo proseguire Tra quelle rocce Ehi potresti Sì Esatto Immaginato Come può ridurre le ossa Vuoi parlare di pagamenti di sangue? Che mi dici dei giganti che tu hai ucciso? Erano la mia famiglia Tamu Rungnir Anche loro erano dei tuoi I giganti erano la piaga dei nove regni E ho gioito per ciascuna delle loro morti Senti Cambiamo argomento Ok Sai Quando sono stato qui con mio padre Abbiamo superato tutte le sfide di Surtur Nessi che tu Non provoca Ehi oh Così Ehm Ok No Boh Andiamo Non so cosa fare Con Col muro Vabbè ma non vale Questo è barale Tor Arriva eh Con calma Ascolta Moody aveva qualche problema Ma era mio figlio L'unico motivo per cui non ti spiaccino È quel pezzo di legno rotto Senti Chiaramente nessuno dei due può svolgere questa missione da solo E voglio stupire il padre di tutti tanto quanto te Non devo piacerti ma Dobbiamo fidarci l'uno dell'altro Giusto un po' Fidarci Bene Bene Più che altro non è un argomento della quale discuterei adesso in realtà Un buon tor Però La diplomazia Non è proprio esattamente il tuo forte Ecco E questo lo sappiamo Non è proprio esattamente il tuo forte Ma non è proprio esattamente il tuo forte E questo lo sappiamo Non è proprio esattamente il tuo forte Oh, questa roba è figa. Bene. Dammi un attimo. Così, no. Benissimo. Vasi. Ve lo dai un attimo? Toro, ti devo picchiare. Allora. Qui. Qualsiasi cosa sia qui. Ah no, che... La maschera indica questa direzione. Dobbiamo provare a scendere. Certamente. E comunque non ti provocavo. Le sfide sono divertenti. Non ti diverti mai. Sei molto diverso da tua figlia. Lei sembrava... Dove sei? Qui. Qui. Quando sei pronto. Toro, ma che... Ah! 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 Non mi pare. Poi, Kratos è probabile che sia morto lì. Lo interpretavo io, però... Lui è a posto. Ok. 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 Ma che è? Voi provateci. Sei stanco? Ma viva! Ma viva! C'è troppo ma... Ok. Un orco? Hai paura? Ma figurati. Ok. Vaggia. Bella lì. sai cosa sarebbe molto utile Kratos onestamente Kratos sarebbe molto utile in questo momento però va bene ok eh due sono tantini però eh eh gentile ok dai dai su Torr è il momento di dare una mano più concreta ok dai no ma tu vaffanculo benissimo ok volevo un attimo finire di prendere tutte le cose avventate che ci sono l'evocazione è divina cioè è divina sì è più unica magari qui che abbiamo mh lo so ok voglio dire io non posso fidarmi di loro ma loro devono fidarsi di me e per farlo devono credere che io mi fidi di loro già ecco l'altare ma sta parlando con la spada lui aspetta c'è un po' di molto sbagliato qui giù ok dai ottimo bene muoviamoci dammi prima questo paratemi se non ho parlato tantissimo di tutta parte ma un filo di sonno infatti ho commesso le prove di a livelli di stalla non avevo avuto però dopo mezz'ora è un po' tardi per ripensarci ecco lo sai malgrado il tuo addestramento da guerriero ti spaventi facilmente non mi hai spaventato che cosa ci fai qui una ragazza non può decidere di visitare un altare tu sei qui per la biglia di surtur può darsi tu stai cercando altre biglie dei giganti sai di cosa si tratta qui tipo della storia della vita di uno del nostro popolo e forse è anche un ripostiglio no direi che si tratta più di sfidare il destino la questione è che cosa ci fai tu qui riscrivo la mia storia quello te lo ha dato Odino non è beh me l'ha dato ma non è non collaboro con lui non gli direi mai del Bosco di Ferro se è questo che ti preoccupa e non sono al suo servizio è la profezia a dirlo non io io devo trovare una biglia mi puoi aiutare se vuoi va bene ma sei sicura di voler violare le regole non c'è nessuna profezia su di te che raccogli le biglie il finale non è ancora stato scritto giusto avanti campione ma torri in tutto questo oh salve una spada senziente un'altra biglia di surto però è senza anima quindi è ancora in circolazione tempo fa mi hai raccontato di come se ne andarono i giganti pensi mai a loro sempre sono lontani da qui lontani da Odino e torri ma mi chiedo in che terre siano e quali mari abbiano attraversato perché voglio trovarli salverò mio padre e poi poi li troverò inizia chi è non surto poco mi assicuro guarda quanto viaggia si in mara non credo di averla mai sentita ed ecco surto wow chissà che battaglia già finché finché hanno smesso oh no 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 guarda hanno combattuto insieme a quanto pare sono persino amici ma grandi amici ma stanno sì direi proprio di sì oh beh buon per loro però sembra che il loro amore li abbia fusi in una specie di creatura enorme Ragnarok e poi Ragnarok visto diventa sempre più grande ma molto velocemente già sentivo che sarebbe successo io starò qui così il tuo amico non si accorge che gli è sfuggito un gigante ma certo però fa attenzione ti prego anche tu mi ha fatto piacere rivederlo direi che è vivo io vorrò a dormire se non muoio qui bella grazie a tutti